Mi chiamo Doriana De Dio e mi occupo dello sportello d'ascolto PSIMBO. Lo sportello è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni. Lo sportello è uno sportello d'ascolto psicologico per cui i ragazzi possono venire e raccontarci un po' quali sono un po' le questioni che li fanno soffrire, per cui da problemi diciamo di ansia, ha problemi nello studio, ha problemi con la famiglia, problemi con il fidanzato o la fidanzata. È uno sportello completamente gratuito, si può venire massimo per tre volte e alla fine diciamo dei tre colloqui verrà data come indicazione se è necessario di poter cominciare una terapia e quindi verranno dati diciamo come indicazione i servizi psicologici presenti sul territorio. Un amico non basta nelle situazioni in cui si sta molto male, quando si sta male bisogna chiedere aiuto a un esperto, quindi a uno psicologo o psicoterapeuta per capire perché si sta male, perché un soggetto soffre così tanto, per cui il posto migliore dove andare a capire perché si sta male è da uno psicoterapeuta. Con il covid le cose non sono veramente cambiate, nel senso che con il covid non sono nati dei nuovi sintomi, ma si sono diciamo acuite delle situazioni che c'erano già prima del covid. Con il lockdown sono stati diciamo contenti finalmente di poter stare chiusi in casa senza più le pressioni di dover per forza uscire tutte le sere, avere una fidanzata e così via e i problemi quindi sono arrivati quando c'è stata la riapertura, perché quindi quando si è ritornati alla vita e per cui di nuovo con le pressioni dall'esterno e altri invece che magari prima uscivano sempre e per cui avevano meno tempo di pensare ai propri problemi, con la chiusura sono stati presi dall'ansia perché sempre presi diciamo dal pensiero dei loro problemi.